L'evoluzione del concetto della rappresentanza è la sfida lanciata da Manager Italia. Deve esistere un sindacato, deve esistere un sindacato che rappresenti chi non ha tutelato, chi non ha tutelato e chi non può tutelarsi da solo. Questo Manager Italia l'ha sempre fatto, continuerà a farlo ed è la mission principale di un sindacato. Ma non è tutto. Manager Italia deve fare come sindacato moderno anche altre cose, perché questo ci ha chiesto oggi la nostra base associativa. Ci ha chiesto quindi di avere una visione moderna del sindacato. Noi ci proponiamo come soggetti attivi per migliorare il territorio, per rendere un'economia sostenibile e per favorire lo sviluppo di start-up innovative con una grossa componente manageriale. Importante poi il ruolo nazionale del Manager italiano. Ritengo che questo sia un percorso che lo Stato italiano debba fare, riconoscere non solo un ruolo specifico di sinergia totale al manager pubblico, ma anche riconoscere il lobbista come una figura professionale che oggi manca al nostro Paese.